Musica Prova a pensare che la voce è dentro te Il desiderio e la celebrità La gente ti verrà, la gente d'ame Sarà una stella, nel cielo brillerà In speciale diventerai Vecina presto sarai Alza il viso in cielo, ti è rispetto al sogno Per essere gravità di vivi Bala con le stelle, sfila non ti fermare Per essere gravità di vivi In speciale diventerai Vecina presto sarai Alza il viso in cielo, ti è rispetto al sogno Per essere gravità di vivi Bala con le stelle, sfila non ti fermare Per essere gravità di vivi Alza il viso in cielo, ti è rispetto al sogno Per essere gravità di vivi Alza il viso in cielo, ti è rispetto al sogno Per essere gravità di vivi Bala con le stelle, sfila non ti fermare Per essere gravità di vivi Per essere gravità di vivi Per essere gravità di vivi San Martino Valle Caudina Quindi è stato scelto questo comune Questa amministrazione Questa bella giuria che dopo avremo modo di conoscere Per celebrare questo evento importante La finale di questo concorso internazionale Pensate, un concorso conosciuto in 90 nazioni È nato nel 2013 in Thailandia Concorso di bellezza che sta spopolando con oltre 14 milioni di followers sui social Pensate, un miliardo di telespettatori in tutto il mondo Quest'anno questo concorso ha vinto ben 11 Global Beauty Awards Ebbene sarebbero gli Oscar della bellezza Vincendo anche il titolo di miglior concorso mondiale E segnando un record assoluto di premi In Italia il concorso è gestito da Giuseppe Puzio Eccolo lì al quale facciamo un applauso E dopo avremo modo di intervistare su questo palco Mentre in Campania il concorso è gestito da Franco Capazzo Al quale anche facciamo un applauso Ricordiamo che fra una settimana si svolgerà Dal 28 agosto al 1 settembre La finale nazionale a Cinecittà World a Roma Mentre quella mondiale andrà dal 3 al 25 ottobre In ben due nazioni Cambogia e Thailandia Con la finale del 25 ottobre a Bangkok Queste sono le cifre Questi numeri Questi luoghi di questo concorso internazionale Allora Adesso ovviamente affinché Questa serata si potesse realizzare Dobbiamo ringraziare degli sponsor Partiamo però dagli sponsor nazionali Caro Puzio Ebbene Per quanto riguarda gli sponsor Di tutto il territorio nazionale Dobbiamo salutare con un applauso L'APTR Ecosystem L'istituto di ricerca scientifica APTR Ecosystem Si occuperà della bellezza dei capelli Delle nostre mise per la finale nazionale Di Miss Grand International Italy Poi ancora Playmar Il brand ufficiale Beachwear Di Miss Grand International Italy I Love Coffee L'aroma unico del caffè sannita Più amato in Italia Ed ancora L'EGEA L'abbigliamento sportswear Ufficiale di Miss Grand International Italy E poi Seiseta Azienda leader mondiale Nel sitore Air Extension Che sarà parte nazionale del concorso Poi Ciro Florio Che è il make up artist Del VIP Dei VIP Noto per il suo programma Cenerento La 24 Surreal Time Che spesso vediamo Questa sera presente Facciamogli un applauso E poi ancora Geriel di Gabriele Bonomo Lo stilista ufficiale di Miss Grand International Italy Le 2024 Che vestirà la nostra Miss Alla finale mondiale Poi l'artigiano Roma Di Fabio Formaggi Azienda storica Roma Per il commercio L'ingrosso di pelle Pellice Famosa per le sue collaborazioni Con brand tipo Renato Balestra Gattinoni Sartoria Vaticana E poi Ancora Privilege Azienda specializzata In consulenza Intermediazione Del settore Del lusso Poi Ambiente Metallica Azienda leader nazionale Nel settore Della raccolta Smaltimento De rifiuti E B Packaging Azienda leader nazionale Nella produzione Di etichette Ovviamente A quello per gli altri sponsor E a Cinecittà World Roma L'esclusiva location Della finale nazionale 2024 Questa sera però Miss Grand International Italy E' piovuto Dal cielo A San Martino Valle Caudina Grazie a questi sponsor locali Ai quali comunque farei un grande applauso Ambiente Metalli Azienda leader nazionale Nel settore della raccolta E smaltimento De rifiuti La trovate in via Domenico Izzo Ad Airola Provincia di Benevento Ottica Ruggero L'ottica più fashion Della Valle Caudina La trovate in corso Montella Ad Airola Poi Montalto Design Azienda specializzata Nella ristrutturazione Un applauso E costruzione Di edifici Residenziali Commerciali La trovate in via Della Libertà San Martino Valle Caudina IPSSRL Industria leader nazionale Della produzione Di semi lavorati La trovate in via Tagliata 1 A San Martino Valle Caudina E poi Ecologia Cioffi Azienda leader Nello smaltimento E raccolta dei rifiuti Che trovate in via Borghe San Martino Valle Caudina E ancora Grafiche Iurorio Tipo litografia Beneventana Dal 1993 Specializzata In packaging Stampa Piccolo E grande formato La trovate in via Lungomare Manfredi Di Svevi A Benevento Poi Chalet Primavera Bar e Caffetteria Lo trovate in Piazza Girolamo Del Valso San Martino Valle Caudina Grazie ai nostri sponsor Grazie a voi Perché solo Grazie agli sponsor Si è potuta realizzare Questa serata Una serata Che vedrà momenti Non solo di moda Di bellezza Ma anche momenti Di spettacolo Di intrattenimento Beh io farei anche Un applauso Al fotografo Ufficiale Del concorso Che è qui davanti a me Eccolo la Adesso lo conosceremo Poi Così magari mi fa Qualche bella fotografia Si tratta di Arturo Ciotola Ciao Arturo Ben trovato Ecco Nelle varie tappe Ci siamo incrociati Ecco questa è la fotografia Del ruffiano Quello la che prima Chiede E poi dopo tiene Magari si fa così Ok Io sto cercando sempre Che la tavola Che ho paura Che insomma Sai com'è Visto che si porta Ultimamente questa cosa Signora che l'è tutta pubblicità Alla fine Ora come ora Però insomma dai Va bene così La sto cercando in vano Questo palco È stato fatto troppo bene Insomma Non si riesce a trovare La maglia che non tiene Direbbe Montale Ma Comunque In ogni caso Abbiamo letto Poi vari sponsor Concorso locale Nazionale eccetera eccetera Ok Adesso è arrivato il momento Di chiamare sul palco Il patron del concorso Sempre impegnato Tra una telefonata In altra Lo accogliamo con un grande applauso Colui che ha voluto fortemente Questo concorso Si tratta dell'amico Giuseppe Puzio Vieni Giuseppe Prendi il tuo microfono Giuseppe Puzio ricordiamo Patrono nazionale Di Miss Grand International E poi ancora Vorremmo chiamare insieme Anche Franco Capazzo Che è il responsabile regionale Insieme al sindaco Pasquale Pisano Quale facciamo l'applauso Ciao Franco Pino Nista E Ciro Florio Eccoli facciamo Alzare dalla giuria E venire qui sul palco Perché Questo caro Giuseppe È il momento Forse più bello Il momento istituzionale No? Adesso siamo seri Ora siamo seri Proviamo a essere seri Eh? Allora Vogliamo Parlare un po' di questo concorso Miss Grand International E soprattutto Com'è nata questa serata San Martino Valle Caudina Assolutamente Innanzitutto Buonasera a tutti A San Martino Valle Caudino Oramai è un connubio Che dura da tempo Questa è la terza edizione Voglio fare appunto Un grande ringraziamento Sia a Pasquale Pisano Sindaco di San Martino Appino Nista Cuore pulsante Di San Martino Valle Caudina Un po' tutta quanta L'amministrazione I sponsor Che oramai Da anni Ci accompagnano Ci accompagnano Quindi è diventata Una realtà consolidata Qui a San Martino Valle Caudina Sperando che Anche negli anni successivi Si possa andare sempre avanti Magari il sogno È quello di portare Anche la finale nazionale Un giorno vedremo Piano piano Si potrà arrivare anche a quello Da Cinecittà San Martino Valle Caudina E dobbiamo valorizzare il nostro territorio Io sono di Benevento Quindi anche se San Martino È provincia di Avellino Siamo praticamente vicini E valorizzare il territorio è importante Quindi ci tengo tanto E magari un giorno Riusciremo anche a portare la finale Qui a San Martino Intanto però Come hai detto prima La prossima settimana Invece saremo a Roma Cinecittà World Nel teatro 1 Il teatro in cui Si è svolto Italia's Got Talent X Factor Quindi una location Di altissimo livello Quest'anno con tantissimi ospiti nazionali A condurre ci sarà Beppe Convertini Insieme a Natalie Caldonazzo La madrina sarà Beatrice Luzzi Che penso tutti avete visto Il grande fratello Vip Molti di voi Volevano magari anche la vittoria Di Beatrice Ci saranno vari comici di Zelig E anche il nostro caro Ciro Florio Sarà ospite Quindi lì arriveranno poi Le ragazze di tutta Italia E qui stasera Sceglieremo le ragazze Sia della Campania Che della Basilicata Perché Franco appunto Ha questa doppia gestione A livello regionale E quindi dovrei fare Un grande in bocca al lupo Alle ragazze magari Chissà la Miss Grand International Italy 2024 Uscirà proprio da San Martino Allora vediamo il sindaco cosa dice Un attimo ti rubo Buonasera sindaco Buonasera a voi Grazie per averci ospitati innanzitutto Buonasera alle famiglie Delle ragazze Che hanno raggiunto San Martino questa sera Per noi è un'occasione Per farci conoscere Per provare a far vedere In queste poche ore Il meglio che la nostra comunità Il nostro paese può offrire Ed è anche l'occasione Per ringraziare Giuseppe Che da anni collabora Insieme a noi Infatti siamo alla terza edizione E abbiamo fatto un passo in avanti Quest'anno Con la finale appunto regionale E sarà l'obiettivo quello della finale nazionale Ci proviamo Abbiamo ancora qualche anno di tempo È un concorso molto prestigioso Merita assolutamente di Noi ci crediamo infatti Ecco perché siamo qui stasera con la finale Io chiedo un attimo Se sa di alzarmi poco poco il microfono Perché dobbiamo fare venire un personaggio Giusto poco se sa Poco poco Appena appena Ecco E perché io penso che anche il governatore De Luca Sia contento del fatto no? Di far venire Sindaco se lei dovesse fare una domanda Al governatore della campagna Vincenzo De Luca Cosa gli chiederebbe? Abbiamo altri problemi in verità San Martino Da dover affrontare col governatore De Luca In questo momento Per cui non posso permettermi assolutamente Di dover valorizzare un evento appunto E ora vediamo subito Governatore che ne pensa delle parole del sindaco? Caro sindaco di San Martino della Valle Caudì Sicuramente tutta questa gente Aspetta una parola da parte del governatore Ebbene io vi posso garantire una cosa Che faremo non solo la finale nazionale Ma faremo la finale internazionale Anzi faremo venire anche gli alieni Faremo una finale interstellare Una cosa straordinaria mai vista da occhio umano Quindi sindaco sta tranquillo Prendiamo tutti chi li conosce Non ti preoccupare Staremo tranquilli Vabbè Ecco queste sarebbero le parole del nostro governatore Quante volte si è fatto le risate Quando glielo facevo a Salerno in faccia Quando era ancora sindaco No? Insomma si divertiva Prima pensa dell'imitazione di crozza Cioè voglio dire Abbiamo giocato spesso con il governatore Che alla fine è spiritoso Insomma Ok quindi Un futuro per Miss Grand International Qui a San Martino Valle Caudina Sicuramente Sicuramente Sentiamo adesso Franco Capasso Che chiaramente è il patron Qui in Campania in Basilicata Allora Franco Come risponde il pubblico A queste serate organizzate Per Miss Grand International Italy? Diciamo che il pubblico ha capito In realtà come divertirsi Con il mondo della bellezza Della moda E di ciò che è il contesto dei giovani d'oggi Io sono contento Questo è il terzo anno Ok? Ho alle spalle negli ultimi due Due vincitrici campane Che hanno vinto il titolo nazionale Quindi Miss Grand International Italy Mascotto E nello stesso tempo Una delle due ragazze ha vinto un titolo mondiale Che è Miss Summer Beach Mi hai dato un assist Dicendo Mascotte Perché questa sera verranno assegnate delle fasce Tre per la Campania Tre per la Basilicata Soltanto alle Mascotte Che poi approderanno alla finale E Mascotte sarebbero le ragazze Con età inferiore a 18 anni Quindi minorenni 16-17 anni Poi dopo le altre sono Miss Dai 18 anni in su chiaramente Quindi volevo solo terminare il passaggio Per noi finisce il 2023-2024 Saremo già pronti in pista il 22 di settembre a Villa Domi Ok? Dove inizieremo il nuovo anno 2024-205 con un grande evento Per chi non lo sapesse Villa Domi a Napoli è una struttura bellissima Dove abbiamo fatto tanti eventi insieme Ci siamo incontrati spesso insomma Quindi Padron Domenico Contessa E' fiero di questa iniziativa Perché lanciamo un nuovo modo di fare bellezza Quello del disco MGI Disco Miss Grand International Significa che le ragazze faranno il loro estroage E nello stesso tempo si divertiranno anche andando a ballare Quindi una serata dove possono partecipare tutti Indistintamente Però c'è un piccolo però Non mandiamo le ragazze solo una volta che vince la fascia E poi non le vediamo più Vi chiedo cortesemente Di incentivare questo processo di questa iniziativa Perché è un'iniziativa importante Essere primi al mondo significa avere tanti vantaggi Su ciò che è la comunicazione e la visibilità Quindi Io spero di essere fortunato e di fare Tris quest'anno E quindi se io dico questo vuol dire che una di voi meriterà questo applauso Grazie Assolutamente l'applauso del pubblico Adesso ecco Anche all'amico di Real Time Quindi Si prospetta una collaborazione tra Real Time e Miss Grand International? Allora innanzitutto buonasera Io voglio dire due cose Allora per chi non mi conosce sono Ciro Florio Lui mi dice che sono l'uomo di Real Time Lavoro per Discovery Per Real Time Faccio il mio programma Intrattengo le signore sabato pomeriggio Con un programma sulla bellezza che si chiama Cenevento alla 24 Le cose che voglio dire sono due Uno è queste ragazze che Chi di voi non si porterà la vittoria stasera a casa Non se ne deve andare a casa pensando che non è bello Che non piace Ma comunque è un gioco Alla fine la deve accettare insomma una piccola sconfitta Esatto E' un gioco E' un gioco Quindi non si fa perché Questo è importante Quindi ci sarà una vincitrice Ma un po' siete tutte quante vincitrici Perché poi voi Noi ci giochiamo la partita qua Ma loro dietro stanno in ansia poverine Perché si gioca la cosa più importante a quell'età La bellezza Cioè per loro è veramente un momento Essendo fragili in un'età particolare Per loro è tutto È molto importante In realtà siete belle sempre Ricordate questo è solo un gioco E quindi come tale va preso E' molto importante per le ragazze Perché io faccio un programma sul dismorfismo Cioè Cenerentola 24 parla del dismorfismo Sulla non accettazione dei propri difetti Che è una vera e propria patologia Che affligge i giovani europei È il 30% che non si piacciono E in famiglia ne soffrono di queste patologie Perché questi ragazzi danno tanti problemi È la fascia di età È proprio la fascia di età Di queste ragazze anche Quindi non vi preoccupate Siete sempre belle Questo volevo dirgli alle ragazze Va bene grazie Ciro E volevo sentire anche il consigliere comunale Insomma E allora San Martino Valle Caudino Questa sera La città più bella della campagna Sicuramente Anche per Diciamo Le presenze di stasera Ringrazio Giuseppe Perché Ci abbiamo riduto fin da subito Siamo alla terza edizione Siamo partiti lentamente Abbiamo costruito un po' di rete Voglio ringraziare Erminio Iollo Che Quest'anno Realmente si è dato da fare Insieme a tanti altri sponsor Che Pian piano hanno sposato Diciamo Il progetto Ringrazio il sindaco assolutamente Perché diciamo che Senza di lui Probabilmente Tutto questo Non si sarebbe realizzato Spero che Vada avanti E spero che Quando dicevi tu Insomma si possa realizzare Un giorno Portare anche una finale nazionale Conosco Giuseppe Da un po' di tempo Sentiamo cosa dice Puzio Lui è una persona che si convince tanto Magari in un futuro Ci riusciremo Dai Lo convinceremo Giustamente Il ragazzo è contento C'è la cucina Oh allora Attenzione Adesso però il momento Diventa veramente istituzionale Mi rivolgo anche alle persone Che sono belle comode Sedute Ora ci alziamo Tutti in piedi Perché stai Dici ma ero proprio Ma come era assaltata Signora giustamente Ha ragione Ma arriva il momento Dell'inno nazionale Ragazze voi siete pronte? Eh voglio sentire La vostra voce Soprattutto Allora se DJ Sasà Cozzolino È pronto Possiamo andare Con il nostro inno nazionale Tutti in piedi Vai Soprattutto 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 Goal Tutto molto bello E vabbè Quando c'era Pizzul Ecco le ragazze Mou viene vicino a me Mou viene vicino a me Ehm Poi quando capita Il momento più difficile C'è Mou che c'estiamo E vabbè Dai Tutto è bello Perché anche un po' di emozione Ci deve stare Allora Giuseppe Adesso è arrivato il momento Di conoscere Concediamo i nostri giurati e i nostri organizzatori con un grande applauso, forse anche il sindaco di San Martino Valle Caudino, no questo lo diamo alla regia, magari sì sì sì. Ok ragazze voi ora siete pronte? Ricordiamo ai giurati come funziona il concorso, c'è un criterio di votazione che va da 5 a 10 e quindi ogni ragazza dovrà essere votata con un punteggio che va da 5 a 10, va bene? Allora chiamerò le prime 8, nel frattempo le possiamo far scendere giù con un grande applauso, facciamo un saluto alle nostre ragazze che conosceremo una ad una. Ok, allora vogliamo ricordare che le prime 8 ragazze partecipano alla categoria Mascotte. Cosa? Presentiamo però la giuria, sì, ci presentiamo la giuria e conosciamo chi sono i nostri giurati. Allora, ovviamente abbiamo capito come funziona, adesso conosciamo i nostri giurati, facciamo loro un grande applauso in generale, vai! E cominciamo con il primo giurato che già abbiamo avuto modo di conoscere, il sindaco, credo anche presidente di giuria, penso, esatto, e lui è Pasquale Pisano, abbiamo detto sindaco di San Martino, Valle Caudine. Poi ancora abbiamo il padrone nazionale Giuseppe Puzio che abbiamo anche conosciuto e poi anche Ciro Florio, make-up artist che abbiamo avuto modo di conoscere prima parlando di real time. Poi ancora andiamo al consigliere comunale Pino Nista che abbiamo visto poc'anzi, dove è Pino? Eccolo lì, va bene? Poi ancora abbiamo una blogger pensata da un milione di follower, una miss, lei è Nunzia Rinaldi, non si alza, ti fatti vedere, dai, prenditi l'applauso del pubblico. Poi abbiamo Erminio Iollo, hair stylist, spero di aver pronunciato bene il cognome, sì, è quello, va benissimo. Bene, poi, poi, poi abbiamo Andrea Montalto Design, main sponsor della serata e c'è anche un'ovazione del pubblico. Poi Michele Donofrio, attore e presentatore, vai Michele, fatti vedere perché sei splendido con questa miss questa sera, io stesso ho detto, mamma, come stai bene, come sei elegante, come sei fashion, diciamo, come si direbbe. Beh, ok, adesso non dico niente più se non mi prendono per. Che cazzo ritmo, non hai detto, giustamente, che mi fai fare queste figure di niente. Allora, vabbè, scherzi a parte, andiamo avanti perché. Dobbiamo conoscere ora Arturo Tufo, hair stylist. Dov'è Arturo? Eccolo lì, Arturo vicino all'amico di prima. Tutti hair stylist, una volta si diceva Uber e Rucchiere. Adesso hair stylist, più bello, suona meglio. Poi c'è Gaetano Giovanzante, Gaetano Giovanzante, altro hair stylist, bene. E poi Roberto della Ragione, scrittore. Dov'è Roberto? Ecco Roberto, scrittore, giornalista, quindi magari dopo ci parlerà anche di qualche suo progetto, qualcosa che in questo momento sta facendo. Poi abbiamo Paolo Morante, eccolo lì, DJ, vero? Paolo Morante DJ, quindi dopo magari ci fai ascoltare qualcosa? Eh, insieme a Stessa Cozzolino, come vuoi, insomma, la console diventa tua, bene. Poi Margherita Umbriano, presentatrice. Dov'è? Ecco la Margherita, ciao, ben trovata. Margherita ci segue nelle varie tappe di Miss Grand International Italy. Poi abbiamo ancora Vittorio Adelfi, Vittorio Adelfi. Buonasera Vittorio, ben trovato. Poi Luigi Pedotto, presidente dell'associazione La Piazzetta. Dov'è? Pedotto? Eccolo lì, buonasera. E Dulcis in fundo, spero di non aver dimenticato nessuno. Vittorio Romano, CSN Tech. Vittorio Romano, dov'è Vittorio Romano? C'è? Ok, c'è anche lui, eccolo lì. Ciao Vittorio. Bene, questi sono i nostri giurati, il criterio già lo abbiamo spiegato, votazione da 5 a 10, va bene? Ora possiamo finalmente conoscere le nostre Miss una ad una, partiamo dalla categoria Mascot, o Baby che der si voglia, con la numero 1 che viene dalla vicina Cervinara, 16 anni di età, lei è Chiara Cioffi. Allora Chiara Cioffi viene appunto da Cervinara, 16 anni, alto metro e 70, e indossa la taglia numero 38. Buonasera Chiara. Buonasera. Ben trovata. Come va, tutto bene? Tutto bene. E' la prima volta che partecipo a un concorso o hai fatto altri? Ne ho fatti altri. Mi ha guardato con l'aria e diceva, ma che stai dicendo? Dici sei una veterana, no ma si vede che fai in passerella in maniera molto spedita. Cosa fai nella vita? Studio. Che cosa studi? Frequento il liceo scientifico. Ah, liceo scientifico, quindi adesso a settembre che cosa dovrai, quale classe dovrai? Il quarto anno. Il quarto anno, quindi sei una ragazza che va bene, no? Che sta seguendo giustamente il proprio percorso di studi. Da grande che cosa vuoi fare Chiara? Perché noi un po' ce lo chiediamo, ma queste ragazze quando cresceranno che professione vorranno svolgere? La modella. La modella. Ah, solo la modella oppure anche qualche altra cosa? L'attrice pure. Pure l'attrice, l'indemeina, però non devo far manca niente, chiaro. È bello questo insomma, che hanno dei sogni da realizzare, che speriamo che voi possiate realizzare, logicamente. Perché questi signori giurati devono votare per te? Perché non dovrebbero. Ah, brava, risponde con un'altra domanda retorica. Perché non dovrebbero? Bene Chiara, ti facciamo ancora un applauso. Ed è lei appunto Chiara Cioffi da Cervinara. Andiamo con la numero due, che è Luisa Frontoso, credo. Poi mi dirà. Luisa Frontoso viene da Casal Nuovo, può andare in passarella, vai. Ha 17 anni, è alta a 1,73 m. E indossa la taglia numero 38, mentre Sassà DJ impazza con la sua musica. Eccoti qui, eccoti. Luisa, Luisa Frontoso da Casal Nuovo, provincia di Napoli, vero? È stato facile trovare la strada per arrivare a San Martino? Sì, sì, ci ho messo 45 minuti, però è stato semplice arrivare. 45 minuti? Va a salirne un'ora e mezza? Mi sono avventurato per la montagna, non l'avessi mai fatto, perché quel maledetto navigatore, anziché darmi la strada, voglio dire, dritta, quella solida che faccio solitamente per Benevento, dice no, devi andare da qui. Ha fatto fare tutti i paesi del mondo, di Montevergine. Va bene così, comunque abbiamo un po' ammirato il panorama. Senti un po', a prescindere da queste cose di cui non ti può fregare di meno, senti, come mai partecipi al concorso di Miss Grand International Italy? Partecipo a questo concorso perché ti dà la possibilità di conoscere nuove realtà e penso che sia anche un concorso molto interessante rispetto comunque ad altri, ti dà molte più possibilità. Ah, quindi insomma sai che cosa stai facendo. Senti, abbiamo detto nella vita, cosa fai a scuola? Studio ragioneria. Ah, ragioneria, pensa io insegno ragioneria, quindi insomma tutte ragazzine della tua età. E da grande che cosa vuoi fare? Da grande mi piacerebbe diventare una modella, ma anche lavorarmi nel settore economico e sociale. Economico e sociale, questa parola sociale, insomma, ultimamente va molto sociale. Quale aspetto del sociale ti piace di più, ti interessa di più? La commercialista. Perché è una cosa sociale, oggi un commercialista veramente, credimi, svolge un ruolo sociale nel dover aiutare i poveri contribuenti che cominciano a pagare a gennaio e finiscono a dicembre praticamente, insomma vabbè, è abbastanza dura. Beh, comunque commercialista in bocca al lupo veramente. Perché la giuria deve votare per te? Perché penso che ci metto sempre la passione ogni volta che sto in passerella. Benissimo. Ah, vedi? Dittura, se sai, Consolino mette Strauss. Eh? Il waltzer di Strauss, bellissimo. Tu sai ballare? Diciamo. Ah, non ho il waltzer, dico balli in generale. Ok, poi dopo magari avremo modo anche di testare le vostre capacità, magari anche nella dance. Allora, nel frattempo noi facciamo un applauso, ecco, vedi? Adesso si sta sbizzarrendo, se sai. Ok, vai in passerella, magari con la musica di Sasan Consolino, facciamo ancora un applauso al numero due, che è Luisa Frontoso. E andiamo adesso con la numero tre, che viene da Salerno, mia concittadina. Lei è Jennifer Vicinanza. Solo 14 anni per lei, un metro e 65. Indossa, indossa la taglia numero 38. Jennifer Vicinanza, eccola qui. Sì, ciao Jennifer. Dai, del resto classico cognome salernitano, vicinanza, eh, non si poteva sbagliare. Ok, giovanissima. Come mai hai deciso di partecipare così giovane? Per provare a fare la modella. Per provare a fare la modella. Quindi c'hai questa passione. C'è una modella, un influencer che è un po' il tuo mito? No. Fanno schifo tutto quanto. No, no. Ah, e non so, un'attrice, un'attrice del cinema che ti piace, dice vorrei diventare un giorno come, come chi? Nessuno, come Jennifer, basta, va bene così, ah, alla fine voglio dire. Senti, nella vita che cosa fai? Vai a scuola anche tu? Che fai, che frequenti? Nella terza media devo fare il primo superiore, linguistico. Pensate, l'ha appena finito la terza media, quindi fai il linguistico perché ti piace l'inglese? Sei brava in inglese? Più o meno? Ok, what's your name? Nessun name, Jennifer. Jennifer, ok, that's alright. What do you think about Sassaco Zolino? Cosa pensi di Sassaco, il DJ? È un bravo DJ. È un bravo DJ, guarda, ha fatto felice, guarda, è contento, guarda, guarda. Benissimo, ok, grazie, grazie. Facciamo un applauso alla nostra concorrente, la numero 3 Jennifer, vicinanza, grazie. Vai in passerella. E la luce mi sfiora, e la notte è ancora lunga per noi, non lo vedi. Vorrei, date, la luna in questo club, riflessi al neon. E dentro questa musica, DJ in tutti l'ultima, sento come volessi correre via. Andiamo rapidamente con la numero 4, che viene da Ottaviano, provincia di Napoli. Lei si chiama Mina Boccia. 17 anni per lei, 1,70 m. Indossa la taglia numero 38. Mina Boccia. Ehi, Mina, Mina, che grande nome, un nome impegnativo il tuo. Sai chi era Mina, lo sai? Una cantante. Una cantante, San Barato. Senti, una cantante, forse la più grande cantante che abbiamo avuto in Italia, che abbiamo in Italia. C'è una sua canzone che ti piace? Di Mina, ancora. Ah, ancora una canzone bellissima. Sasa, c'hai qualcosa di Mina? No? E se ti dicessi, acqua e sale, mi fai bere, con le mani mi... Tieni il bicchiere, sono un po' stonata. No, no, va bene, mi ha detto, sono un po' stonata. No, no, no. Senti, allora, tu partecipi al concorso di Miss, per quale motivo questa sera? Cerchiamo di essere seri. Perché mi piace sempre mettermi in gioco e mi piace stare nelle passerelle. Oh, ok. Senti, c'hai oltre a questa un'altra... un hobby nella vita. Cosa ti piace? La tua passione qual è? Io pratico danza. Pratichi danza. C'è qualche passo che ci puoi far vedere o non ancora? Giusto un saluto, qualcosa? Facci vedere. E le facciamo un applauso per questo saluto. gentile che ci fa la nostra concorrente, numero 4. Mina, boccia, vai in passerella adesso, vai. Piensa in tuo futuro, no pierdas más tiempo. Por qué? Perché la vita è corta. Dìjame in paz, dìjame solo. Io vivo oggi, non miro para atrás. Piensa, è molto importante mirare para adelante, para adelante, para adelante. Ed era la numero 4, Mina Boccia. Andiamo alla numero 5, che viene da Marigliano, ed è Desiree Grasso. Desiree Grasso di Marigliano, 16 anni, 1 metro e 67, in passerella, vai. Indossa la taglia numero 40. Buonasera, Desiree, buonasera, ben trovata. Eccola qui, con il sorriso sbagliante, arriva. Eeeh, adèh, io non lo faccio, perché sennò questi scappano. Allora, Desiree, questa sera, Miss Grand International Italy, è la prima volta che vai in passerella, o già altre volte sei stata? Spiro, da quando avevo 7 anni, quindi non è la prima volta. Ma niente di meno, c'è stato sempre in Coppa Navaseta, da quando avevo 7 anni, pensate un po', e a 7 anni a stente lo sapevo dire come mi chiamavo. Invece loro, 7 anni sono in passerella, alla grande. Chi è una tua influencer, o non so, un personaggio di TikTok che ti ispira particolarmente? Particolarmente non mi ispira nessuno, mi piace credere in me stessa e ispirare a me stessa, così che qualsiasi traguardo che faccio mi sento sempre più soddisfatta. E motivata, brava, quindi, ah, questa è una bella cosa, puntare su se stessi, quindi, tu sei l'influencer di te stessa, vero? Sì. Eccola lei, va, detto così, non fa una piega. E nella vita che cosa vuoi fare? Da grande, Jennifer, cosa vuoi diventare? Mi piacerebbe diventare una modella come prima cosa, sarebbe il mio sogno più grande, ma allo stesso tempo mi piacerebbe diventare un estetista per creare l'aspetto di ogni ragazza e farla sentire al proprio agio, col proprio corpo e farsi sentire bella. Esatto, perché poi la cosa importante è questa, sentirsi belle, a prescindere, voglio dire, da come si è, dai canoni oggettivi di bellezza. La bellezza è anche un concetto personale, diciamo, mi sento bella e mi piaccio così. Va bene, devono votare per quale motivo questi giurati per te questa sera? Perché per me sarebbe una grandissima soddisfazione portare il vostro nome fino alla nazionale e poi perché mi farete sentire veramente tanto grata di me stessa e di mia mamma che mi accompagna ogni ispirata ed è sempre al mio figlio. Dov'è, dov'è mamma? Dov'è la mamma? Eccola lì, buonasera mamma, come va? La mamma, è mezz'ora che ha il telefono, giustamente arriverà a casa col braccio e dice ma che è successo? No, è una piccola, eh, bene, giustamente sta a riprendere, salutiamo, ciao, ciao a tutti coloro che ci vedranno adesso indifferita nel video che mamma sta facendo. Ok, vai in passerella, ancora un applauso, numero 5, Desiree, Grasso, grazie Desiree. E ora andiamo con la numero 6 che viene da Napoli, lei è Kimberly Hernandez. Kimberly viene da Napoli a 16 anni, alta 1,71 m, indossa la taglia numero 38. Eccola là, Kimberly, buonasera, ciao, bentrovata. E il sorriso smagliato, è felice, guardate, è contenta la nostra Kimberly, anche tu hai parenti, fidanzati, chi c'è qui nel pubblico? Ah, ecco, c'è una signora che si agita, credo che sia la mamma? Mia mamma, Katia. Ciao mamma, Katia, ehi, saluto bene, credete, mia mamma Katia, ok. Bene, la salutiamo, solo lei oppure c'è qualche altro? Nessun altro, vabbè, ok. Senti, nella vita sfili proprio o fai qualche altra cosa, studi? Vabbè, sfilo, poi studio, faccio il liceo delle scienze umane, ora devo andare al terzo anno e poi faccio atletica da ormai due anni. Ah, sei un atleta, in quale disciplina gareggi? Salto e lungo. Salto e lungo, c'è un salto, vedi, guarda, 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 che bella, quanto spazio, potresti fare il record del mondo, potresti fare, ma non con queste scarpe, magari. Salto e lungo, qual è il tuo record personale? 5,50. 5,50, magari uno dice, vabbè, 5,50, provatelo a fare, 5,50, vedete se è facile, sicuramente no. E quindi hai già vinto delle medaglie, qualcosa di importante? Sì, per ora sono campionessa regionale. Campionessa regionale, io le farei un applauso solo per questo, perché non sempre capita di ospitare una campionessa regionale, Kimbelli. Senti, vorresti andare avanti in questo concorso, per quale motivo? Certo, mi farebbe felicissima, perché sin da piccola è il mio sogno diventare una modella, infatti già da piccola ho già praticato alcuni shooting e alcune passerelle. Alcuni shooting, scatti fotografici al secolo. E quindi sì, in bocca al lupo allora per questa attività, e allora facciamo ancora un applauso al nostro numero 6, Kimbelli. Bene, Kimbelli Hernandez. Ed è la volta della numero 7, Sofia. Sofia Cice, credo che sia, bene? Allora, Sofia viene da Sant'Agata di Goti, quindi qui vicino, ha 17 anni. Facciamo un applauso alle nostre ragazze, sì, alto 1,60 m, indossa la taglia numero 38. Ciao Sofia, come va? Tutto bene? Ti vedo un po' preoccupata delle eventuali domande che potrei farti? No, assolutamente no. Allora, dimmi il teorema di Pitacoro. Cara Sofia, vediamo un po', tu per quale motivo sei in passerella questa sera? Perché gareggi? Volevo scoprire questo nuovo mondo. Ah, è la prima volta che partecipi? Ah, bello, complimenti, è la prima volta, quindi che emozione ti ha fatto andare su una passerella la prima volta? Mi sono divertita. Vabbè, tra le 10 secondi, ah, sei divertita, va bene così. No, crede, noi ti auguriamo ovviamente di andare avanti perché è bello che voi vi divertiate innanzitutto. Nella vita che cosa fai? Oltre a sfilare ogni tanto, quindi che cosa studi? Dove vai a scuola? Studio moda e devo frequentare il quarto anno adesso. Bello, pensa che anche io insegno in una scuola dove si fa moda e cuoio, no, no, proprio a Solufra e c'è questa scuola che è un indirizzo specifico, quindi studiare moda è importante perché uno già ha concezione di come si progettano i capi e cose varie, quindi è sicuramente molto utile per trovare un lavoro domani. E dimmi un po', chi è che ti accompagna questa sera? Mamma. C'è la mamma, dove è la mamma? Ecco, guarda, due mamme, tre mamme sono uscite, no, eccola la, una, sta lì, sì. Ah, eccola, eccola, è quella lì che si sta arrampicando sul palco. Vabbè, sì, signora, buonasera, salve, ok. Vabbè, del resto, insomma, è il momento del video. Ecco, per quale motivo questi cattivoni della giuria devono votare per te? Per farmi, diciamo, entrare in questo mondo con nuove opportunità. Deve entrare nel mondo, eh, mi raccomando, quindi cerchiamo di farla entrare nel mondo. Beh, del resto, voglio dire, già ci sei. Allora facciamo ancora un applauso alla nostra numero sette che va ancora in passerella. La nostra Sofia Cice. Ed ora ci apprestiamo a concludere il primo gruppo di ragazze che gareggia per la categoria mascotte, lo ripeto, la categoria a parte. L'ultima in gara per questa categoria è la numero otto. Si tratta di Ilenia Damiano, che viene da Montesarchio, che ha 17 anni, in realtà ha un metro e sessanta, ed indossa la taglia numero 38. Ecco Ilenia, ciao Ilenia, buonasera. Allora, Ilenia, ovviamente come tutte anche emozionate, ovviamente. Ilenia, che classe frequenti a scuola? Sì, faccio il liceo scientifico e l'anno prossimo, quest'anno dovrò fare il quarto. Dovrei fare il quarto, cioè, vedi, diventiamoci più a favore di luce. Qual è la materia che preferisci? La materia in cui vado meglio è filosofia. Filosofia. Allora, ti chiedo, c'è un filosofo che tu prediligi, che ami? In particolare, mi ricordo che quest'anno mi è piaciuto Platone. Platone, Platone, entrare nel mondo delle idee per uranio, no? È bello, Platone. E secondo te, noi viviamo in una società più platonica, oppure più razionale, più materialista? Come la vedi? Secondo me è una società più realistica. Eh sì, siamo più, ecco, vedi? Del resto anche l'antifurto sta suonando in questo momento per ribadire quello che hai detto. Senti, e c'è un hobby, un hobby nella vita, qualcosa che ti piace fare, oltre a sfilare? Nella vita mi piace leggere. Ah, leggere. E questa è una bella cosa, devi fare un applauso solo per questo, perché oggi si legge Instagram, Facebook, ma è difficile che si legga quell'oggetto parallelepipedo che si chiama libro. C'è un autore in particolare che ti piace? Eh, in particolare sto leggendo i libri di Don Brown, ultimamente. Ok, beh, del resto sono molto gettonati, eh, questi libri di Don Brown. Bene, allora, dovrebbero votare per te, per quale motivo? Eh, dato che questa è la prima volta che partecipo, magari votandomi, penso. Eh, pensateci, è la prima volta, insomma, facite questi sforzi, dai, ok. Sarebbe un bel modo per concludere questa esperienza. È un bel modo per concludere, in bocca al lupo anche a te, allora, va bene? Era la nostra numero otto, andiamo ancora in passerella, vai! Ilenia Damiano da Montesarchio. E chiudiamo così col primo gruppo, facciamo la sfilata generale partendo dalla numero uno, vai! Numero uno, Chiara Cioffi. Numero due, Luisa Frontoso. Numero tre, Jennifer Vicinanza. Numero quattro, Nina Boccia. Numero cinque, Desiree Grasso. Numero sei, Kimberli Hernandez. Numero sette, Sofia Cice. Numero otto, Ilenia Damiano. L'applauso generale alle nostre Miss Mascotte. Ok, la giuria ha votato, secondo una votazione ricordiamo che va da cinque a dieci. Ora c'è il primo ospite Canoro, poi dopo conosceremo le ragazze che concorreranno per la categoria Miss, che sarebbe la categoria Senior, per così dire. E allora, questo ospite Canoro, questo cantante, ecco vedo si sta cominciando a scaldare la voce. Avremo modo di vederlo in un paio di occasioni questa sera. e se è pronto lo vado a presentare. Vediamo un po', ci sei? Eccolo lì, lo accogliamo con un grande applauso, signori. Jenny Nunez. Ciao, Jenny. Buonasera. Mi piace la tua voce bella, postata quasi da doppiettore. Ma che dovremmo fare? Una serata così bella? Eh? Fare un omaggio a Franco Capasso, che ci dedica a queste meravigliose serate. E al dottor Funzio, che poi praticamente, essendo il patron nazionale, ci dà la facoltà di poter vivere questo dappertutto. Senti, tu nel modo di parlare, nei tempi ricordi molto Califano, e rientra un po' nel tuo repertorio? Entra nel mio repertorio e lo porto un po' ovunque, perché poi il repertorio che viaggia dal mio maestro, che è stato per 35 anni Fred Bongusto, poi portato Bruno Martino, Franco Califano, Tony Bennett, Frank Sinatra, un po' in giro per il mondo. Insomma, tutti i più grandi. Però stasera vi farò ascoltare dei brani scritti da me, musica e parole. Il primo è Mio amor, una canzone che è dedicata a una donna, con la quale ho vissuto un momento molto particolare, e con la quale penso che quando si vivono certe emozioni bisogna riportarle sempre, perché l'amore non è età, è come la musica che non ha barriere, è come la bellezza che è eterna. Quindi stasera rappresentiamo la bellezza, l'arte, la musica. E' questa meravigliosa città, perché questa è una bomboniera, non è una città. Bene, l'applauso del pubblico lo testimonia. Signori, Jenny Nunez. Sei il mio amore, la mia vita, il mio respiro, la mia forza, la mia gioia, sei tutto quanto. Vorrei averti qui, per un momento, sperando che non sia un altro fallimento. Senza, di sicuro non so, se ti merito o no, ma nessuno saprà, amarti più di me. E se tu lo vorrai, io sarò sempre qui, sperando che non sia quel nostro Dio. Resto qui, ad aspettarti tutti i giorni, sembrano tanti, ma sono solo dei momenti. Basta poco, per provarti i sentimenti, che sono il frutto del mio amore per te. Che l'amore possa sentire dentro, e che ogni emozione possa vivere sempre. E tu sai che vorrei diverti per sempre, mi riesce dentro me solo con la mente. Il profondo di te, è in ogni cosa, e rimarrai per me, come un'agia. Questa canzone, ti parla di me, e tutto il mio cuore, la dedica a te. Amore mio, dimmi di sì, e la nostra storia comincerà da qui. Grazie. Che cosa, un'altra canzone che ho scritto, dedicata sempre a questa donna che nella nostra mente gira, perché noi siamo innamorati a volte di identità che non riusciamo nemmeno a realizzare, perché ci lasciamo prendere dalle emozioni e improvvisamente viene fuori qualcosa di diverso. E così, scrissi questa canzone intitolata La mia via. Prego. Come goccia d'inchiostra, tu mi segni la vita, ogni traccia che lascia è una storia infinita. La luce dell'alba, abbaglia i miei occhi, lasciando soltanto il profumo di te. Ora sono qui, voglio solo te, lasciali entrare, non farmene andare, perché senza di te, ogni minuto che passa, mi sembra l'immenso, ma senza più senso. Ti vorrei accarezzare come fossi il vento, perché insieme a te questa vita ha più senso. Ora siamo qui, soli oggi, lasciati amare, non farmi più del male. Tu non sai quanto, io ho aspettate, su questo letto, tu mi sembri una fata, ora che il mio cuore non posso più fermare. Tu non so, soli oggi, lasciati amare. Sì, fatti amare Restare qui con te è stata una follia Ma io l'ho scelta già La mia via Grazie Questi sono momenti d'amore che Quando ti toccano dentro La penna incomincia a scrivere Improvvisamente Facciamo il terzo brano L'amore fa Una canzone napoletana che ho scritto Fa tante cose l'amore Se fosse stata Tutto bene Ma visse di te La verità Se tu conoscemi C'è credibile E ora non sape Chi è un campo Sta vita nostra E non si pari Sarà una scena E chi ci sta Se non si pari Se non si pari E 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 non si pari Tu riesci a capire Un momento brillante Un momento magico Direi Le luci che brillano Dall'alto E le luci che brillano Dal basso Perché loro saranno L'eccellenza Che dalla Campania Andrà in tutta Italia Io le mando un bacio A tutte queste meravigliose donne Luci dal basso Sai che bollette che arriva Eh sì Comunque in ogni caso Io farei un grande applauso Al nostro artista Che vedremo dopo Con un altro paio di brani Grazie Va bene? Allora ancora un applauso Lo facciamo a lui Gianni Nunez Grazie ancora Grazie Andiamo avanti Con la gara Con la gara Perché ora Conosceremo La categoria Senior La categoria Miss Cioè le ragazze Che gareggiano direttamente Per Miss Grand International Italy Allora Partiamo a questo punto Torniamo appunto in gara Dalla numero 9 La numero 9 Si chiama Francesca Pia De Santis Viene da Napoli Ciao Francesca Allora Francesca Pia Ha 18 anni appunto In maggiorenne Alta 1 metro e 69 E indossa la taglia numero 38 Quella canzone che mi canta di tu La sento sempre alla radio Ecco Francesca Pia Dove vai? La france è? Andove E qui Oh Francesca allora Per voi maggiorenni Diciamo che appartenete Alla categoria Senior È richiesta anche Una piccola esibizione No? Perché giustamente Dovete dar prova Anche di capacità artistiche Che vanno al di là Della mera bellezza Ma anche un qualcosa in più Non so Te cosa piace fare? Cantare? Ballare? Recitare? Moda? 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 Cioè sfilare Oppure fare anche degli abiti Disegnare? Attrice 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 Ah che bella cosa Che ruolo ti piacerebbe recitare? Vai Proviamo a improvvisare qualcosa Eh? Ha vergogna Ha vergogna L'attrice te ne ha vergogna No anzi Devi adesso fare vedere un po' Quali sono le tue capacità Le tue abilità E non so Chi è la tua attrice preferita? Per esempio Sono tante C'è una non so italiana Che ti piace particolarmente Non ricordi Non ricordi Qualcuna Non lo so E Uno sketch con Sassaccozzolino Qui E fare Ecco adesso arriva sul palco Interpreterà No vabbè scherzo Allora Ci sei? Sì Chi c'è questa sera per te? Fai nel pubblico Chi c'è? Dove? Mamma E la sorella Ecco Sembrano sorelle Se le vedi da lontano Mamma e la sorella Insomma voglio dire Sono tutte e due Molto Molto Giovincelle Beh Facciamo una cosa Dici una cosa a mamma Che non hai mai detto Approfittiamo di questo momento Ti do il microfono Gliela dici questa sera Qui In diretta Davanti a tutti Vediamo un po' Di superare questa prova Se ce la fai Se ce la fai Hai vinto Io ringrazio mamma Che non apprezzo Cioè Non apprezzo Cioè mamma Che io non apprezzo Cioè Non l'apprezzo mamma No no Mamma Scherzo Non apprezzo L'affetto e l'amore Che hai nei confronti Tua mamma Lo so Si scherzava Va bene Vuoi ballare un po' Per noi No Vabbè va bene Così allora Ti lasciamo libera Facciamo appunto Un applauso Alla numero nove Che è Francesca Pia De Santis E la volta Della numero dieci Francesca Finelli Cesta Finelli Viene da San Felice A Cancello A diciotto anni Alta un metro e setantasei Dossa la taglia Numero quaranta Ok vieni qua vieni 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 Francesca Vieni Va bene così Ok Un attimo Stavamo facendo una prova microfono Con il DJ Sei Sei un po' Emozionata Ti vedo proprio un po' È normale perché Sai su un palco Magari la prima volta Che si viene intervistati Come ti chiami Francesca Francesca Però Francesca Non devi essere così emozionato Se non ci divertiamo Voglio che ti fai una bella Un respiro Vai Tranquillo Tranquillo Fai finta di stare all'interrogazione D'italiano Allora Che cosa vogliamo parlare Non so Qual è il tuo autore preferito In italiano Che è studiato Aspetta Ci confessiamo un attimo Aspetta Dimmi un po' Allora Non lo so Va bene Ok Allora A parte tutto questo Che va bene così Hai un hobby Qualcosa che ti piace fare Nello spettacolo Non so Cantare Recitare Dimmi vai Io disegno Disegni Ok Ci puoi disegnare qualcosa Sulla passerella Non lo so È un po' difficile Disegnare sulla passerella Ti possiamo dare Non so La maglietta di Sasan Consolino Per fare qualche scarabocchio Ma non credo Perché è nera Quindi neanche si vedrebbe E Sulla giudice Ah Eccolo là Benissimo Ok Il nostro patron Giunge In salve Fare un applauso A Puzio Solo per questo Gesto che ha fatto Perché Ci ha salvato Davvero Allora vai Una bella Tavola Tavolozza Bianca No Foglio bianco Immacolato Che cosa ci vuoi disegnare In questo momento Vediamo un po' Cosa crea La nostra artista Che cosa ci vuoi disegnare Una corona Una corona Una corona Ah no Lo so Ma una corona Cioè infatti no Perché giustamente Una corona Di bellezza Perché Mi era un attimo Ecco Impressionante Allora sì Una corona Di bellezza Signora Non la corona La corona Di bella Bella corona Ecco qua Una corona Che magari Metteremo sul capo Che magari Tu un giorno Indosserai sul capo No Una bella corona Di regginetta Di bellezza Di miss È quello che Noi ti auguriamo Allora sì Sta disegnando Veramente una corona Poi direte Che sta facendo No Una bella corona Con una punta alta Sembra quasi una fiamma Questa corona Bella Proprio Fiammeggiante Ok Guarda 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 Magari La corona Di miss Grandi International Italy Ecco Mettiamo anche Qualche gioiello Qualcosa Di incastonato Dopo La facciamo vedere Alla telecamera Questa corona Vabbè Non è la più bella Di quello che fa Però la sta improvvisando Adesso Davanti a tante persone È in piedi Tra l'altro Non è facile Disegnare in piedi Anzi Quasi impossibile Io avrei disegnato Un cavallo Tipo Per esempio Ok Eh Per restare in tema Allora vai Facciamo vedere La tua corona Facciamole un applauso A favore di telecamera Inquadriamola Ecco Abbiamo conosciuto Un artista Questa sera Eh Ah Facciela vedere Adesso la vedete Andiamo in passerella Dai perché Giuseppe Puzio Vuole vedere La corona Mi piace Questa corona Sta avendo successo Francesca La corona di Francesca Finelli Ha riscosso Un bel successo Complimenti a te La nostra numero 10 Francesca Finelli E la sua corona Andiamo avanti Con la numero 11 Che viene da Gaeta E che si chiama Martina Noviello Martina Noviello Viene da Gaeta 20 anni Alta 1 metro e 69 Indossa la 38 Buonasera Martina Ecco So che vorresti scappare In questo momento Fuggire Andare lontano Da me E dal microfono Ma voglio dire Siamo qui per giocare Quindi ci si diverte Cosa fai nella vita Di bello Martina Io studio Cosa studi? Economia e commercio All'università Ah e all'università Bene Da quanto tempo Frequenti l'università? Un anno Un anno Bene Hai notato differenze Col mondo della scuola? Sì Un pochino E un po' di differenze Ci sono Sì Senti Ma questa sera Chi c'è con te? Non so Il fidanzato Mamma Papà Chi c'è? Chi c'è? Il mio papà E mio fratello La famiglia Buonasera Eccola lì Tutti in seconda fila Eccoli Sono belli schierati Guardali Guardali Anche in tinta pure E c'è anche Franco Capasso Cosa c'entra? Perché è parente Lui no Cos'è? Stanno parlando della famiglia Però Siccome Franco Capasso Vi considera una grande famiglia Allora dice anche io Sono qui E ne faccio parte È giusto Senti E tu invece c'hai una passione La ragazza di prima disegnava Tu cosa sai fare di bello? Qualcosino? Sai ballare? Sai cantare? Una barzelletta? Quella è la colpa? So io di chi è che se lo becco Dove sta Giuseppe Fuzio? No Scherzo Scherzo Vabbè però C'è qualcosa che ti piace fare Oltre a studiare E sfilare Qualche altra cosarella Ci sarà Dai Eh? Mamma può Può cantare Può ballare Può fare quello che Sa fare Può? Puoi Allora dai Puoi ballare un po' No? E che cosa te lo devo far fare Però dai Sasa abbiamo DJ Sasa Consolino Questa sera Che fai? Non balli? È come se avessimo Molella O non so Qualche altro DJ E niente Non balli D'Agostino Niente No Che cantante ti piace? Dai Non c'è uno preferito Non c'è uno preferito Tanti cantanti Ecco Allora ti faccio una domanda Perché questa giuria Questa sera Deve votare per te? Perché Mi piacerebbe Continuare Questa esperienza Sì È semplice Votate Perché vuole continuare L'esperienza Non è che Se una votata Non vuole continuare L'esperienza Allora Votate Martina La numero 11 Va bene L'ho fatto anche l'appello Ok Ci vuole un applauso Ancora in Passarella Vai Eccola qua Adesso andiamo avanti Perché a volta della numero 12 Fiamma Fiamma Simonelli Fiamma Simonelli Viene da Pozzuoli A 19 anni Alta 1,70 m Indossa la taglia Numero 38 Buonasera Buonasera Ci farà cantare Ci farà cantare Ci farà dire una poesia Ci farà Non lo so Che cosa vuoi fare? Non lo so Vuoi ballare un po'? E' cammessa Sai eri ingiovanito Vedi Se sei sul consolino Me lo ricordavo Un po' più maturo Invece improvvisamente Me lo trovo giovane In console Beh non so C'è qualche passione Ballare per esempio No Il calcio C'è un pallone Per favore Dai Facciamo Improvvisiamo Da guardare Allora Ovviamente La domanda Che tutti ti farebbero Per che squadra Fai il tifo? Napoli Per il Napoli Ma non avevo dubbi Tu del resto da dove vieni? Da Pozzuoli Da Pozzuoli Quindi è giusto Che non tifi per il Napoli Anche se una volta sai C'era il Pozzuoli Campania Putiolana Si chiamava Che giocava C'è ancora C'è ancora Vabbè Per il Campania Putiolana Giocava in serie C1 Girone B Tanti anni fa Gli anni 80 Ed era anche una Buona squadra Vabbè A prescindere Chi abbiamo qua Che ti ha seguito Questa sera La Pozzuoli Abbiamo Abbiamo finalmente Un fidanzato Fidanzato alla luce del sole C'è il mio fidanzato Complimenti Fidanzato Vieni vieni Come ti chiami Come ti chiami Vai vai Vieni vieni Come ti chiami Sei tu Facciamo un applauso All'unico fidanzato Che ha il coraggio Di dire Sono io Sono io Fidanzato Come ti chiami tu Francesco Bene Francesco anche giovanissimo Quanti anni hai Francesco 20 Quindi se non bene o male Siete quasi coetanei O giù di lì E allora Da quanto tempo siete fidanzati Quasi un anno Beh insomma È bello Già mi fa piacere Che conosci Ma dove è mamma La mamma Eccola là Com'è mamma La suocera Com'è Com'è Fortunatamente tranquilla Eccola Fortunatamente tranquilla Avrà un po' Matrimonio Ma avrà tutto tranquilla Poi dopo Magari Eh Già starete Noi Poi vedrai Vabbè no no Bocca al lupo Bocca al lupo Perché È molto bello Quando uno Ancora non sa Per niente Poi dopo Avrà modo di Ma che è un serial killer Questo qui Questa risata Improvvisa Insomma non è Ma vedi che sta succedendo Qua Vabbè ma Voglio dire Lo vedo molto tranquillo Posato Complimenti Eh Sì sì Come dice È proprio tranquillo No è un ragazzo tranquillo Si vede Va bene Dici la verità Adesso ce lo puoi dire Pensi che un giorno Questa cosa Potrà essere coronata Da qualcosa di più importante O è prematuro Sì Sì C'è un giorno Qua si parla addirittura Di matrimonio Eh vabbè Presto Eh vabbè La cosa più importante È quello Dopo il fidanzamento Va bene Aspettiamo la proposta Nello stadio Bello Ha capito Quando siamo Maradona La curva B Si non può Caccia l'anello Quattrocento Ah com'è Com'è È la curva B Allora mi raccomando La proposta Nella curva A A lui piace la curva Vabbè a ognuno piace La lettera che sceglie Insomma Vabbè D'accordo Vabbè Mi raccomando Il bocca al lupo Per tutto Ancora un applauso La numero 12 Noi scherziamo Chiaramente Con le nostre ragazze Ci fa molto piacere Farlo Andiamo con la numero 13 Che anche viene Da Pozzuoli Se non sbaglio Esatto Sì E lei è Christine Suarez 27 anni Per lei 1,70 Indossa la taglia 38 Eccoci qua Suarez Ma sei sorella Dell'altra Suarez Che è venuta prima No Ah che è l'Ernandez Tu sei Suarez Il divulgatore Del Messico Dice un amolo ha cattato Suarez e Ernandez Sono forte Invece no Vabbè È una cosa Allora Tu partecipi altre volte Hai partecipato ai concorsi di Miss Vero? Sì Da quando ero piccolina Mamma Mi accompagna sempre Dov'è mamma? Dov'è mamma? Chi è? Signora indica Dov'è? È scompare Ah quella che si sta nascondendo Ah sta là Buonasera signora Come va? Ecco si nascondeva Dov'è scompare? Invece no È un po' timida Eh però quando si apre Poi non la finisce più Insomma Comincia E non termine Ok senti Tu nella vita Che cosa fai Oltre a sfilare In passerella? Allora io faccio un po' di cose Mi sono laureata In economia e commercio Poi ho fatto un master In risorse umane Sì 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 Che adesso sto adegriando Io faccio un po' di cose Sono laureata Con il commercio Poi 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 Non mi metti in difficoltà No no Se tu la metti in difficoltà a me Veramente Poi vai 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 Sto facendo il tirocino Da commercialista Quindi mi ricordo Un'altra ragazza Stava voleva fare La commercialista Se non mi sbaglio E niente Faccio atletica Faccio danza Atletica Danza classica Cioè Sono pure un piano forte Cioè Non mostro Eh no No Quello no Dovresti imparare Adessi dai Già che ci sei E quindi In atletica Che cosa fai Salto in lungo pure tu No I 400 I 400 Ah bellissimo I 400 metri Ai 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 Bisogna E studia anche recitazione Attenzione Che è completa Questa ragazza La concorrente ideale Di Miss Grand International Italy Con te facciamo tutta la serata Bello Ah Allora Ascoltami Che cosa mi vuoi recitare adesso Una battuta di un film Ma vai Il palco è tuo E anche Ti regalo Anche un Giuseppe Puzzi Sì Un Giuseppe Puzzi Lui proprio Personalmente Vuoi partecipare anche tu? Abbiamo Ciro? Beh fai tu il mio Malcolm E a Ah faccio io il tuo Ma che c'è Che devo fare? Aspetta Malcom Ma che è? Che film è? È Malcom e Mary Quello di Zendaya Primo che mi è venuto in me Sì Vabbè quello là Lui insomma Ok che devo fare? Sto lì Fermo Sì Io ti tratto male Ah sono cattivo Aspetta Ciao Sono il fidanzato cattivo Adesso cosa farai? Cosa dirai? Il microfono per te Te lo dà Sasà Cozzolino Lui è ancora più cattivo di me Spaccagli il microfono in testa No Che cosa dirai? Vai La differenza è questa Malcom Quale? Io non trascino le mie palle in giro per la casa Vantandomi delle esperienze che hanno fatto Tu trascini I tuoi attributi Per la casa Ecco perché è sempre pulito e non c'è mai polvere Hai visto? Ora ho capito Perché in qualche modo riesci a pulire il pavimento con i tuoi attributi Visto che efficienza Che efficienza Eh signori sposatela questa qui Viene sempre il pavimento pulito E poi porti una donna che ha i palle Dacci tua Vabbè comunque Beh allora perché la Giulia deve votare per te per concludere? Allora io ho voluto mettermi in gioco Sì Adesso attenzione andiamo all'ultima concorrente in gara Che viene da Benevento Si chiama Doriana Doriana Negro Ha 26 anni Alta 1,72 m Indossa la taglia numero 42 Eccola qui Eccola la canzone Eccola la canzone Me la ricordo questa qui Eh del 94 Si sa 96 Sicuro? Suonava con te Suonava con te Vabbè allora Ubi Maior Minor Cesset Eh ok Sì 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 Ok va bene Allora Bel no Doriana Bel no Doriana Sembra quasi il nome di un biscotto Doriana Allora beh Doriana senti un po' No Doriana Ah il biscotto Doriano Sì vabbè ma tu sei Doriana Allora Doriana dimmi un po' Tu che Voi a scuola anche? Andavi a scuola Finito Andavi a scuola Che studi hai fatto? Che studi hai fatto? Sono una truccatrice dello spettacolo Ho fatto proprio il corso con Ciro Florio Con la Favas Ah bene con Ciro Florio con la Favas Ho fatto il corso Senti e chi hai truccato? Chi hai truccato? Mi capito di truccare per Paolo Bonolis Oh Luca non l'ha truccato Luca Paolo ha truccato Ah mio ma Mio mi ha voluto truccare perché dice Oh cioè questa non mi trucca No invece Paolo Bonolis è truccato Eh Paolo Bonolis Bene sì 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 È il mondo dello spettacolo E poi anche i cristiani normali Insomma persone meno Eh meno note Ma come mai ti piace truccare la gente Diciamo Che ho sempre fatto da quando ero piccolina E poi devo dire mi piace molto il mondo della moda Quindi spiego tanto la moda in generale Bene Doriana ti piace anche cantare? A proposito di spettacolo di arte Appena tornata da Ibiza Questa non è Ibiza Eh sembra Sembrava Ibiza Questa è San Martino Sei senza voce Però sai ballare Se per andare a Ibiza sai ballare no? Sasa vogliamo fare ballare un po' la nostra Doriana? Vai vai il palco è tuo Vai vai un po' di dance Sasa vai vai Doriana faceva la cubista a Ibiza E adesso l'abbiamo portata direttamente qui A San Martino Valle Codine Va bene prova superata Bene Doriana Ok Applausi del pubblico Doriana Nigro Va bene così Perché la giuria dovrebbe votare per te? Perché diciamo Eh? No piano 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 Perché diciamo È una cosa che mi è sempre stata vietata Partecipare a vari concorsi di bellezza Questo è il mio primo concorso in assoluto È stato vietato Solo da un fidanzato geloso Poteva essere vietato il concorso O no? Sì Eh vabbè Può capitare nella vita Anche il mio fidanzato Mi ha mai fatto presentare prima di oggi Poi invece Se vinci sarà la tua più grande Rivinci Va bene Dice Lo chiami Oh Sapena cosa Ho vinciuto Ti No vabbè No no Non proprio così Dai non si fa Non si fa In bocca al lupo allora Vai Ok The rhythm of the night Per le nostre ragazze Che rivediamo in passerella Partendo dalla numero 9 Ricordiamo loro Gareggiano per la categoria LIS Numero 9 Francesca Pia Di Santis Numero 10 Francesca Pinelli Numero 11 Martina Noviello Numero 12 Fiamma Simonelli Numero 13 Cristian Sting Suarez E ancora numero 14 Doriana Nigro Le nostre ragazze sorridenti Ammiccanti Lasciano per ora La passerella Mentre Giuseppe Puzio Ritira le schede Dai nostri giurati Ritira le schede In maniera tale Che ognuno Ha potuto Esprimere il proprio voto Ricordiamo Da 5 a 10 Quindi Le giochi sono fatti Abbiamo salutato Le nostre ragazze Adesso è il momento Di chiamare i parrucchieri Sul palco Vero Puzio Dammi qualche Delucidazione Ci sono i parrucchieri Parrucchieri Che questa sera Hanno operato Hanno agito Sul Style Delle nostre ragazze Vediamo un po' Se c'è qualcuno Che vuole venire Se no Li salutiamo Semplicemente Insomma Va bene così Andiamo avanti E allora Io vorrei a questo punto Invitare Un scrittore Un giornalista Sul palco Ecco vedo che già Inforca i suoi occhiali Prima ci siamo conosciuti Così In maniera Informale Sto parlando Logicamente di Roberto Della Ragione Ecco vieni Roberto Ti do del tu Facciamo un applauso Roberto Della Ragione Scrittore Giornalista Eccoci qui Buonasera Un applauso Roberto Della Ragione Buonasera Un microfono anche per lui Buonasera Buonasera San Martino Valle Caudina Buonasera All'Irpinia Questo luogo Incantevole Di socialità Di eccellenza E di un capitale umano Davvero Meraviglioso Sì No vedo che Ti do del tu Assolutamente Io sono Enzo Tu Roberto Vedo che hai vari lavori L'amore non può aspettare Poi Oltre l'amore E l'amore Prima di tutto Diciamo il grande protagonista È l'amore A questo punto Sì Sta per uscire anche il nuovo romanzo Perché è una saga Un nuovo romanzo Che si chiama L'amore che vince Mi preoccupavo Dice l'amore non c'è più No l'amore c'è sempre L'amore che vince L'amore non si tocca Insomma potremmo continuare Come no Allora faccio una domanda All'autore Che cos'è per te L'amore L'amore è semplicemente Tenersi per mano Quando tutto il resto Della casa Crolla Bello questo eh Quando tutto il resto Della casa crolla L'amore è tenerci per mano Però prima uscire Dalla porta Possibilmente Perché se no Poi la casa Insieme però Facciamo una foto A Franco Capasso Insieme la facciamo Eccolo lì Che cos'è l'amore Secondo te Oggi per i giovani Perché spesso Si parla delle nuove Generazioni Che sono talmente Disilluse Da non credere più In questo sentimento Invece che cos'è Per i giovani L'amore oggi Io sono un insegnante Quindi lo vivo Quotitamente Assolutamente sì Insegniamo anche La stessa disciplina Apprendevo prima Italiano? No Ecco che cosa? Disciplina giuridica ed economica Ah va bene Io italiano Va bene L'amore per i giovani Sicuramente Ha un significato Oggi diverso Perché La società È totalmente cambiata Viviamo in un'epoca Virtuale Dove i ragazzi Di oggi Passano Questi sono dati Statistici ufficiali Passano dalle 6 Alle 8 ore al giorno Immersi Nel mondo virtuale Tra cellulari Computer Quindi sono totalmente Alienati Dalla realtà Ma c'è il pericolo Che il mondo virtuale Diventi il mondo reale Il mondo virtuale Ha già superato Lo ha superato Esatto Esatto Non so Spesso capita addirittura Di sognare Di stare sui social Cioè quando uno dorme Sogna di stare su facebook Di chattare Sarebbe bello invece Che la realtà Ci riportasse a vivere La vita reale Quella fatta Di sentimenti Di emozioni Di abbracci Ma sì Anche perché In un mondo in cui Comincia a spadroneggiare L'era Della realtà virtuale Non solo Ma anche Dell'intelligenza artificiale Tutto ciò Comincia a spaventare Perché Ci sta alienando Da quella Che era la realtà Certo Ne parlo anche Nel mio ultimo libro La solitudine Emozionale Quella che purtroppo Vivono oggi Troppe persone Io credo che però L'amore debba sempre Vincere Su ogni cosa Debba trionfare E credo che sia La spiegazione di tutto Sia l'amore E sia la mancanza D'amore Sì infatti La mancanza D'amore Forse c'è bisogno Di amore Questo è proprio C'è bisogno Di più amore Ma c'è bisogno Soprattutto Di amori veri Onesti Autentici E sinceri Va bene Allora noi con questo appello Vogliamo salutarti Ricordiamo i titoli dei libri Allora perché L'amore prima di tutto Oltre l'amore L'amore non può aspettare A breve uscirà L'amore che vince Un ringraziamento A Franco Capasso Che ci ha reso ospiti Di questa meravigliosa location E un saluto ancora particolare A questa meravigliosa città San Martino Valle Caudina Viva l'amore Viva San Martino Valle Caudina Grazie Roberto della Ragione Grazie a te Complimenti ancora una volta Allora nel frattempo Abbiamo tempo Rileggiamo un momento Anche gli sponsor nazionali Perché Qualcuno me li chiedeva Adesso li rileggiamo Rapidamente E facciamo un applauso Aptrico System Istituto di ricerca scientifica Per i capelli Delle nostre Miss Poi Playmar Il brand ufficiale Beach Award Di Miss Grand International Italy I Love Coffee La coffee La Roma unica Del caffè Sanita Più amato in Italia L'EGEA L'abbigliamento Sportwear ufficiale Di Miss Grand International Italy Seiseta L'azienda leader mondiale Nel settore Air Extension Sarà parte nazionale Del concorso Poi Ciro Florio Il make up artist Dei VIP Noto per il suo programma Cenerentola 24 Appunto Su Real Time Poi Gerian Di Gabriel Bonomo Lo stilista ufficiale Di Miss Grand International Italy 2024 Che vestirà I nostri Miss Alla finale mondiale Poi ancora L'artigiano Roma Di Fabio Formaggi Azienda storica A Roma Per il commercio Di ingrosso Di pelle Pellicce Poi Privilege Azienda specializzata In consulenze Intermediazione Nel settore del lusso Ambiente in metallo Azienda nazionale Nel settore Della raccolta Smaltimento dei rifiuti Big Pack Hiking Azienda leader nazionale Nella produzione di etichette Cinecittà World Roma All'esclusiva location Della finale nazionale 2024 E andiamo avanti Con gli sponsor locali Ambiente in metalli Azienda leader nazionale Nel settore della raccolta Smaltimento dei rifiuti Che trovate in via Domenico Izzo Ad Airola Poi l'ottica Ruggero Che è l'ottica più fashion Della Valle Caudina Che trovate in corso Montella Ad Airola Montalto Design Azienda specializzata Nella ristrutturazione E costruzione Di edifici residenziali E commerciali Che trovate a San Martino Valle Caudina In via della Libertà Poi Ips SRL Industria leader nazionale Della produzione Semilavorati La trovate sempre qui In via Tagliata 1 A San Martino Valle Caudina Poi Ecologia Cioffi Azienda leader Nello smaltimento E raccolta dei rifiuti La trovate qui A San Martino In via Borghe E ancora Grafiche Iororio Tipo litografia Beneventana Dal 1993 Ancora Chalet Primavera Bar e Caffettoria Che trovate qui A San Martino Valle Caudina In piazza Giro Del Balzo Sono i nostri sponsor Facciamo un applauso A tutti Generale Vai Oh Abbiamo così Salutato ancora una volta I nostri sponsor Io volevo L'ospite Canoro Che era arrivato prima Che era venuto prima C'è Eccolo lì Lo vedo che si sta Scaldando nuovamente Vediamo che cosa Ci farà ascoltare Adesso Prima poi Della proclamazione Delle nostre vincitrici Qualcuno mi dice Abbiamo un influencer Locale Che si chiama Leonardo Allora Giuseppe Se lo vuoi invitare Ufficialmente Qui sul palco Lo facciamo venire Un attimo Leonardo Ci sei? Leonardo Gianni Nunez E poi dopo Leonardo Giustamente Dai Allora Facciamo ancora un applauso A Gianni Nunez Che prima Buonasera Buonasera Sempre così Ma visto che Non abbiamo mai dato Spazio Più di tanto Alla canzone napoletana Gianni Io però Avrei voluto Che tu Facessi qualche brano Del grande califo Se era possibile Grande califano Puoi prendere Sulla penna Ci sta Bimba mia Bimba mia Bimba mia Bimba mia Bimba mia Un brano di Franco Califano Famoso Molto bello Poi ti racconterò Un aneddoto Per quanto mi riguarda Su Franco Califano Ecco nel frattempo Stanno scegliendo Il brano Che Nunez Proporrà Ricordiamo Che fra pochi minuti Ci sarà La proclamazione Delle vincitrici Ci sarà La categoria Mascotte Che avrà Le tre vincitrici Che andranno avanti E poi c'è La categoria Miss Che avrà Tre vincitrici Se non erro Per la Campania E due per la Basilicata Poi dopo Mi aggiorneranno Su coloro Che passeranno Alla finalissima Nazionale Vediamo un po' Se hanno risolto Il problema Di trovare La canzone Sulla pennetta Se no vediamo Quale è pronta E Nunez Potrà fare Quella che è pronta Ok Siete stanchi O siete ancora caldi Ci siete Sempre Ci siete Qualcuno ha detto No Chi è che si è addormentato Ah signore Tiene pure la coperta Cuscina No però Portatelo Se no Non va bene così Insomma Dobbiamo dormire Coperti Riposati Tranquilli Però la coperta nera Signore Mamma mia Cioè la cosa è che Ah no 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 Però Caccia tu dei colte Da sotto Ci guarda Ok No 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 Sta bene così Ecco Sì 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 Copriamoci Copriamoci Fa freschetto Quest'ora fa freschetto E qua da queste parti Eh Va bene Ok Ci siamo Ci siamo Ci siamo Allora Ci fai ascoltare Bimba mia Sì Vi faccio ascoltare Questo brano Che Di Franco Califano Che L'ho portato un po' in giro Sia in Italia Che all'estero È bellissima Questa canzone Ti voglio raccontare Quest'aneddoto Eh Io ebbi Tanti tanti anni fa La possibilità di passare Con Califano Una serata Nel suo locale E lui suonava A pianoforte Eravamo pochi di noi E lui ci cantava Tutto il repertorio È una cosa bellissima Perché Califano Ti rendeva magica Un'atmosfera In pochi minuti I momenti Dei crooner Dei cantanti Confidenziali Come Bongusto Martino Di Capri Califano Tony Bennett Frank Sinatra Sono Dean Martin Sono Momenti Che hanno Lasciato Che i cuori Si unissero Sempre Perché penso Che Come questa canzone Dedicata all'amore Perché poi Alla fine Bisogna sempre Insistere Perché penso Che sia la cosa Più bella Quindi io Allora ancora un applauso Mi dedico questo brano Ed ascoltiamoci Bimba mia Grazie T'ho costruita Donna Piano Piano Sperando di poterti Avere Sempre T'ho Colgivata Come un tulipano Salvandoti D'alfredo Di Dicembre E Segre Sulla Palla Da Morire Piena Ingenità Di Bendizioni Dico Che io Dovevo Rispettare Invece Di Cadere In Tentazioni Bimba mia Bimba mia Bimba mia Forse ho sbagliato a darti Troppe cose Ma non mi ho innamorato Non ho ragione Io Mi ho toccullato Il letto di Mimos Momento Dal di là D'ogni Persona Chiamata Come donna Come figlia Avresti Ereditato La Mia Vita Ma ora Che si scioglie La famiglia Mi Mi Fido Perché Ma Tocco L'asciuta Bimba mia La colpa, sì, la colpa è tutta forza della vita, sicuramente. Dalle quei leggi non si può sfuggire, naturalmente tu, tu sei perdonata, anche se lasci un uomo ad impazzire. E a niente servirebbe ritentare, per fare in modo di riaverti a casa. Ma al grado tutto, ancora so capire, che tu è forte e io non ho più ripresa. Bimba mia 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 Non bene così, ma così grande E dilla una volta sola Se vuole tu, se tu stai tramando Dilla che mi vuoi bene Comìa, comìa, comìa E voglio bene a te Tu sei una cosa grande Grande, grande, grande Una cosa che tu stessa non sai Una cosa che non hai dovuto male Non bene così, ma così grande Ma così grande Ma così Ma così grande, grande, grande Grazie E buon proseguimento Semi Nugnes Bravo, bravo, bravo Hai creato una magica atmosfera questa sera Tutti cantavano le canzoni con te Bello, una bella sensazione Io ti ringrazio per la tua presentazione Perché sei sempre molto così particolare La serata è bellissima Un momento Io dico che l'arte La prima arte È quella che ci dà il nostro Dio Nelle nostre mani La seconda arte, purtroppo È quella che a volte Noi abbiamo e non sappiamoci fruttare Stasera io veramente ti vedo in perfetta forma Sei un fattore esponenziale Della serata che grazie a te abbiamo avuto Tanto piacere di essere qui Vabbè, gli occhiali dai Senti DJ, stasera Cozzolino Ma perché Cozzolino ce l'hai con lui? Scusa, non ho capito Ma perché ci conosciamo da 30 anni È un feeling che non si spezza mai Eh no, eh no Va bene Allora io vi ringrazio Jenny Nugnes Buona serata a tutti Buon proseguo E viva la vita E viva la bellezza Grazie Grazie Jenny Grazie Ci vedremo in qualche prossima occasione Allora come va? Tutto bene? Ci siete ancora? Sì? Ah, signore Frisch Che si è scettato E voi da queste parti? Bello Il signore è già Si è già insomma Bello sorchiando Quasi No, va bene Del resto Qualcuno si assopisce La signora che ha la coperta Dove? L'hanno portata in dalla macchina Direttamente No Dov'è la signora con la coperta nera? Rimaste solo la coperta Ah, già sta a letto Sta dormendo da un'oretta Ok, vabbè D'accordo Allora state bene Siete ancora Ecco la signora Buonasera La mamma con la carrozzina Signora? La signora si col ben bimbo Che dorme oramai Da tre ore Come è giusto E Ci siete? Ci siete? Sì, sì E' frisch E' vostro marito Questo signore qui? Eh Ho vengo in gamba stasera Eccolo là Com'è? Signore stasera quando è tornato a casa Eh? No, no Non so Dormire ma Prima di dormire Dopo si dorme Ehi, sì C'è tempo Primo bacino era buonanotte Signore Ci vuole E allora andiamo con le mani a tempo? Sassà, ma la metti dall'inizio 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 Vai, 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 vai Perché voglio di più Voglio tutti adesso Perché arriva Celentano Vai Tutti? Tutti Sette giorni a Portofino Più di un mese Sette giorni a San Tropez Poi mi hai detto un concorrito Non mi compri col papè S'è scappata a Marebo Con un grossista di miso Tutti Susanna 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 Mon amore Voi bravi Ho visto che la conoscete Voi bravi, ho visto che la conoscete Io turista di cinese Azza Le regina di Pigà Indossami un piccinese Un triangolo di stress Gli ho detto Vieni via con me Shhh Lei ha detto no Io l'ho detto Aspetta signor Che motopiglia Che assegge Te porterà a casa E allora vanno tutti con le mani così In questo modo One Two Uno Due E tre Mani su Susanna 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 Mon amore Otra volta dai Susanna 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 Mon amore Vanno Vanno Ziamo il ritmo più forte Ho 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 Eh Come on Gira soli a testa in su Abiliti come me Non riesco a immaginare Tutta la vita senza te Per averti farei di tutto Tranne perdere la stima di me stesso E se è questo che tu mi chiedi Sì lo so Però stavolta resto a piedi Anche se dentro di me è qualcosa Amore Vai Sì Veramente Farei di tutto Farei di tutto Ma rinuncio col dolore Sì Veramente Farei di tutto Ma non ti voglio Non ti voglio Senza amore E ora cantate voi Perché arriva Azzurro E le mani vanno Su 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 Sempre l'estate Tutto l'anno L'improvviso Eccola qua Lei è partita Per le spiagge Ma sono Solo Quattro città Sempre Tu schiaro E sopra E tre Un aeroplano Chework O No 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 Spure Per Me Mi hanno Looko Di non Avere Più Risorgi Senza Di Che Allora C'è Faccio Vengo Vengo Da Ma quale treno? E' il pensiero del contrario Grazie a tutti, va bene, va bene, va bene Va bene perché loro sono talmente forti Che adesso, vedi, io faccio venire E' pronto? E' pronto? E però, e niente, sono i risultati Quindi basta, va bene E porta anche Leonardo Porta anche lui E non so E uè, cosa vogliamo fare qui? Sindaco, vuole venire anche lei o dopo? Dopo, quando la chiamo io, eh, le viene Cremio, caro sindaco A questo punto anche lui ridiscende dai cieli Dopo duemila anni Ebbene, questa sera Organizzeremo Un bel bunga bunga Particolare Almeno speciale Ci divertiremo insieme Insieme anche al Presidente del Senato Che allora anche Ignazio La Russa Questa sera viene in mezzo a voi Perché è arrivato il momento di conoscere Il risultato delle concorrenti Allora Ah, eccolo qui, Giuseppe Puzio Vieni, vieni Supporto Eh, la musica di Robby Balboa Eh, stasera con il solino DJ questa sera è scatenato Che cos'è? Ah, guarda un po' le nostre emissi in ambito da sera Che meraviglia Allora, abbiamo i risultati Le facciamo entrare Accogliamo con un grande applauso Le concorrenti di Miss Grand International Italy Un grande applauso Ci sono tutte? Ok Seguite il numero che avete Facciamo un applauso Le nostre concorrenti di Miss Grand International Italy Vai Prova a pensare che La voce dentro te E i desideri o della celebrità La gente ti verrà La gente ti verrà Sarà una stella Nel cielo briderà Speciale diventerai Leggina presto sarai Leggina presto sarai Alza il viso al cielo Tieni stretto il sogno Permisse i Grand Italy Balla con le stelle Sfira non ti fermare Permisse i Grand Italy Speciale diventerai Leggina presto sarai 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 Le sfida non ti fermare, per Miss e Gran Vitali Speciale diventerai Vecina presto sarà, Vecina presto sarà E vieni a minasso sarà, Vecina presto sarà Alza il viso in cielo, vieni stretto un sogno Per Miss e Gran Vitali Vada con le stelle, sfida non ti fermare Per Miss e Gran Vitali Prova a pensare che la voce è dentro te, il desiderio è la celebrità La gente ti verrà, la gente ti amerrà, sarà una stella nel cielo briderà Speciale diventerai Vecina presto sarà, Vecina presto sarà Alza il viso in cielo, vieni stretto un sogno Per Miss e Gran Vitali Vada con le stelle, sfida non ti fermare Per Miss e Gran Vitali Vecina presto sarà, Vecina presto sarà Alza il viso in cielo, vieni stretto un sogno Per Miss e Gran Vitali Vada con le stelle, sfida non ti fermare Per Miss e Gran Vitali Alza il viso in cielo, vieni stretto un sogno Per Miss e Gran Vitali Vada con le stelle, sfida non ti fermare Per Miss e Gran Vitali Speciale diventerai Vecina presto sarà, Vecina presto sarà Alza il viso in cielo, vieni stretto un sogno Per Miss e Gran Vitali Vada con le stelle, sfida non ti fermare Per Miss e Gran Vitali Per Miss e Gran Vitali Katia Tu Tu Is it nothing that I can't do to make you change your way? Is it love when you want somebody and you can't just stay? Dancing with an angel Standing by my side, talking with me, dancing if I need you Standing by my side, talking with me, dancing if I need you Standing by my side, talking with me, dancing if I need you And I hear this voice inside, dancing with an angel Dancing with an angel Babe, I love you, but I can't follow you, so walk away Is there a way I can speak to you? I got a lot to say I won't ever forget you now, it seems like yesterday And it takes a long time for me to live another way Dancing with an angel Standing by my side, talking with me, dancing if I need you Standing by my side, talking with me, dancing if I need you Standing by my side, talking with me, dancing if I need you And I hear this voice inside, dancing with an angel And I hear this voice inside, dancing if I need you Allora, eccoci qua, ti sentto, abbiamo una nuova concorrente è arrivato un nuovo concorrente di chi si tratta? andiamolo a conoscere andiamo a conoscere questo nuovo concorrente la nuova concorrente? un momento si Obdiogo, viva! Obdiogo, viva! Obdiogo! che? fotografo, lui non ti ha autorizzato che numero è lei? che numero è in gara lei? 34 34 34 va bene, va bene facciamoci una bella foto Leonardo aspetta però un saluto una foto che guadono una foto che guadono con Leonardo ci vuole, porta bene una foto con Leonardo vai, vai, tutti col pollice vai Leonardo Superstar io farei un grande applauso a Leonardo grande music grande international l'italia ok allora Giuseppe vieni qua sono arrivati nel frattempo i risultati vieni 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 vicino a me così chiamiamo insieme non è che sbirciano ecco no 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 non si capisce la vincitrice è la numero no allora attenzione partiremo dalla categoria mascot basilicata poi mascot campania quindi passeremo alle maggiorenni e quindi decreteremo le vincitrici per la basilicata e per la campania della categoria senior senior cioè miss e allora iniziamo a svelare il numero di fasce perché saranno numero di fasce sì tre fasciate per la categoria mascot basilicata sì tre fasciate per la categoria mascot campania ecco quindi accederanno ben sei mascot alla finale nazionale allora facciamo di Cinecita World Roma facciamo così tu chiami coloro che devono premiare i premianti facciamo fare prima un passo avanti alle ragazze così vediamo chi sono oppure che dici sì facciamo così allora categoria miss basilicata baby e quindi mascot chiamiamo innanzitutto a premiare Jennifer vicinanza sì Jennifer allora poi non diciamo l'ordine di di arrivo Chiara Cioffi e Desiree Grasso voi tre siete già finaliste nazionali per la basilicata quindi un grande applauso allora chiamiamo chiamiamo chi è la terza classificata e chiamiamo Ecologia Cioffi Miss Ecologia Cioffi dove è Miss Ecologia Cioffi che viene eccolo là chi viene a premiare Roberto Roberto della Ragione Roberto della Ragione Roberto della Ragione autore scrittore sale sul palco e premiera la terza classificata della categoria mascot ok vieni vieni Roberto cerchiamo di velocizzare un po' i tempi la terza classificata della categoria mascot è la numero la numero tre Jennifer per vicinanza la facciamo eccolo qui ora chiamiamo sul palco Margherita Umbriano ragazzi avvicinatevi qui al centro e Arturo Tufo si per la fascia mascot basilicata e la fascia grafiche Urio ok allora chiamiamo un attimo Arturo coloro che devono premiare Margherita vieni e anche Arturo Arturo Tufo venite 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 a premiare le nostre vincitrici allora già siete in finale quindi già siete rilassate perché sapete di approdare alla finalissima a Roma quindi è la vostra categoria rappresenterete degnamente la vostra regione la campagna allora attenzione vediamo un po' chi è la prima classificata mascotte la Miss Mascotte Basilicata attenzione vince il titolo di Miss Mascotte Basilicata la numero musica maestro vabbè saremo più essenziali se sa perché questo lo faremo vince la numero alziamo un po' il tono della musica e la vincitrice è Miss Mascotte Basilicata la numero la numero chi tra di loro secondo voi è la numero uno Chiare Cioffi Miss Mascotte Basilicata la premiamo vai anche anche perché dobbiamo andare avanti con le altre Miss quindi per ora stoppiamo la musica se sa bene foto premiamo anche la seconda la seconda classificata per la Basilicata logicamente che Desiree Grasso complimenti Desiree premiamo anche Desiree Grasso Margherita ti premia ti fascia ok va bene foto di rito ora passiamo invece alle Mascotte per la Campania caro Giuseppe ok allora facciano un passo in avanti per la Campania le Mascotte numero due Luisa Frontoso numero sette Sofia Cice e numero sei Kimberly Hernandez venite qui davanti chiamiamo a premiare vorrei fare anche un grande applauso alle ragazze che purtroppo non hanno avuto l'accesso le mascottine che sono rimaste fuori ma che hanno tutto il tempo purtroppo i posti per accedere in finale nazionale sono quelli altrimenti avremmo portato tutti a Roma tanto ci sarà occasione ci sarà occasione il 22 settembre già parte il tour nuovo saremo a Villadomi a Napoli quindi bisogna sempre partecipare soprattutto per voi che siete piccoline sono le prime esperienze quindi acquistando fiducia in voi stesse poi magari più avanti potete ambire anche sentite a chi mi sta dicendo papà vabbè allora ok andiamo avanti quindi chiamiamo a premiare ancora Margherita Umbriano poi per la fascia IPS SRL poi ancora chiamiamo Vittorio Adinolfi e Michele Donofrio per ottica Ruggero Ruggero e poi chiamiamo ancora a premiare Gaetano Giovanzante per Miss Bascot Campania ok sì Vittorio Adinolfi e Michele Donofrio prendiamo le fasce di rito e avete formato un ideale tricolore qui sul palco guardate un po' eh bianco rosso e verde poi ci sei tu poi anche poi entri nel bianco ecco guarda la fotografia esce vai vai il tricolore l'abbiamo formato questa sera ok allora attenzione partiamo dalla terza classificata per la Campania sempre della categoria Mascot è la numero due Luisa Frontoso terza classificata Miss Mascot Campania ok bene ora decretiamo la vincitrice delle Mascot di Miss Campania vince il titolo di Miss Mascot Campania la numero la numero sette o sei sette o sei sei o sette vince la numero sei bimbo bimbo l'Irnandez Miss Mascot Campania premia Gaetano Giovananti ok abbiamo la seconda pure viene premiata ovviamente la seconda la numero sette Sofia Cince ok allora adesso le Mascot fasciate possono fare un passo in avanti le Mascot fasciate è la foto di gruppo solo le Mascot Basilicata e Campania che sono passate alla finalissima di Roma ok adesso passiamo alla categoria Miss mia cara Miss scama va fosse che mor per te perdonami seccandoti quell'aria che sei tu il cantico dei cantici nel blu dipinto di blu allora adesso attenzione ragazze tocca a voi vediamo un po' chi saranno per la Basilicata le tre a passare alla finalissima di Roma due per la Basilicata e tre per la due per la Basilicata e chiamiamo queste prime due che sono la numero 10 Francesca Finelli Miss San Martino Valle Caudina e poi la numero 14 Damiana Nigro allora vediamo voi due ragazze sarete finaliste per la regione Basilicata alla finale nazionale di Roma allora vediamo un po' chi si aggiudica il titolo di Miss Basilicata secondo voi è la ragazza che porta il numero 10 o la ragazza che porta il numero 14 10 o 14 secondo voi e hanno fatto un lungo viaggio per arrivare fino a qui qualcuna con più emozione qualche altra con più sicurezza ostentando magari più voglia di vincere ma entrambe intanto sono arrivate a Roma no? a questa serata magica che si farà in questo tempio dello spettacolo a Cinecittà vediamo chi le premia a queste ragazze vediamo chi le premia sì qua abbiamo Erminio Iollo Pinonista e Luigi Pedoto per la fascia San Martino Valle Codina e Ciro Florio e Vittorio Romano per la fascia Miss Basilicata bene Giuseppe Fuzio promosso e adesso attenzione conosciamo vabbè allora io faccio l'organizzatore a me sta bene la Miss Basilicata è la numero la numero la numero la numero 14 Doriana Migro e un grande applauso va anche la numero 10 Miss San Martino Valle Claudina, Francesca Finelli Allora, la corona per la vincitrice Finella, Francesca Finella, Francesca Finella, Francesca Finella Finella, Francesca Finella, Francesca Finella Abbiamo aggiudicato le prime fasce della categoria Miss Le due ragazze che approdano alla finale della prossima settimana di Cinecittà Roma Per rappresentare la regione Basilicata Esatto, adesso vediamo invece quali ragazze, tre ragazze qui in mezzo Rappresenteranno la regione Campania che questa sera ci ospita Attenzione Chiamiamo Qui davanti E intanto chiamiamo anche coloro che devono premiare Quindi chiamerei La fascia Montalto Design Premia Andrea Montalto Andrea Montalto sale sul palco La fascia Ambienti e Metalli Che preme invece Giuseppe Rinaldi e Franco Capasso E poi ovviamente la Miss Campania Che preme il sindaco insieme a me E Pasquale Pisano Bene Allora Facciano un passo in avanti La numero A numero 12 Fiamma Simonelli Poi ancora la numero 9 Francesca De Santis E la numero 13 Christine Suarez Ok Anche in questo caso voglio fare un grande applauso A chi è rimasto purtroppo fuori dalla finale nazionale Però come detto prima Purtroppo i posti assegnati sono solamente quelli Ma che il 22 settembre già potrà Si riparte con il nuovo tour Esattamente Allora ragazzi venite un po' più qui al centro del palco Allora vediamo un po' chi si aggiudica la terza fascia Il terzo posto Montalto Design Sì Andrea Montalto dov'è? Andrea Montalto è qui Beltronista Andrea Montalto Allora Andrea È venuto in mezzo alle sue Fredatrici Le cacciatrici Allora vediamo un attimo chi fa il terzo posto Si aggiudica La fascia Di terza classificata La numero La numero 3 Fiamma Simonelli La numero 12 Fiamma Simonelli Pardon Terzo posto appunto Fiamma Simonelli Ecco qui Fotografia di Rito Per la terza classificata Fiamma Simonelli O la numero 13 La numero 9 Che è Francesca De Santis O la numero 13 Che è Cristin Suarez Sarà La nove O la tredici A vinti quattro Cioè no Attenzione Vince Vince La fascia Di Miss Campania Per Miss Grandister National Italy La numero La numero La numero Si abbassa la musica Il sindaco è pronto La concorrente Con il numero 13 Cristin Suarez Miss Campania Per Miss Grand International Italy Seconda classificata In vice Francesca De Santis Miss Ambiente Metalli Tremiata da Franco Capasso Eccola lì Con la corona Sulla sua bella criniera Rincioluta Si aggiudica il titolo Di Miss Campania Eccola C'è una foto Di Rito insieme Vai Grazie Grazie Allora Giuseppe Vieni qui Siamo Ai saluti finali Insieme a Franco Capasso Che dire È stata una bella serata È piacevole La gente è rimasta con noi Fino alla fine Come sempre Il popolo di San Martino Non si smentisce È una garanzia Un grande applauso A tutto San Martino Valle Caudina E poi voglio fare Soprattutto Un grande in bocca al lupo A queste ragazze Che hanno Un onere importante Quello di rappresentare Due regioni A una finale nazionale Quindi Mi raccomando Settimana prossima Lì a Roma Date il 100% Perché Chi vincerà Accederà poi Alla finale mondiale Del concorso Più seguito al mondo E per quest'anno Per la prima volta Sarà l'unico concorso Che si svolgerà addirittura In due nazioni diverse 15 giorni in Cambogia E 15 giorni in Tailandia È un'esperienza incredibile È un'esperienza incredibile 14 milioni di followers 1 miliardo di spettatori In tutto il mondo È un'esperienza che capita Una volta nella vita Franco Capasso Vuole concludere? Sì Diciamo Sono soddisfatto Sono contento Di questo anno Che è passato Vorrei ringraziare Tutte le ragazze Indistintamente Perché Ricordatevi Che è sempre un gioco Ho sempre una possibilità Di rimischiare le carte Quindi Da settembre Vi aspetto Perché inizia Un nuovo anno Con nuove novità Nuove opportunità Per tutti Quindi Facciamogli un applauso Non ha vinto nessuno Ma hanno vinto tutte Indistintamente Perché purtroppo I posti Quelli sono E quelli rimane Però Mi dovete fare Una promessa Io per due anni Consecutivi Come Campania Ho vinto Il titolo nazionale Vorrei fare Tris Quindi Mettetecela tutta E avrete tutto Il mio cuore E il mio supporto Grazie Grazie Franco Capasso Signori Grazie da Enzo Guariglia E Arrivederci A una prossima occasione È stato un piacere State con voi Grazie a tutti Ciao 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 Ciao